Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, questa è Fano TV, canale 17, come sempre vediamo subito il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. San Giovanni Eudes, sacerdote, il sole è sorto alle 6.16, tramonterà alle 20.08, oggi è una giornata di tempo brutto con questa immagine che già ci fa capire un po' quale sarà l'andazzo per tutta la giornata di oggi. Questa è la fotografia del nostro osservatorio meteorologico, la temperatura è di 22 gradi alle 7.30 del mattino, oggi avremo un cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche schierita solo dalla serata, in particolare nelle zone collinare e montane. Avremo rovesci o temporali diffusi in particolare lungo la costa e la media collina, anche di forte intensità, dunque fenomeni in temporaneo esaurimento soltanto a partire dalla serata. Le temperature in diminuzione nei valori massimi, venti di brezza tesa, sud occidentali, con rinforzo dei venti fino a vento moderato lungo la costa in serata. Il mare sarà dunque mosso. Per la giornata di domani, giovedì 20 di agosto, non cambia molto, avremo ancora nuvolosità con progressiva diminuzione dal pomeriggio. Avremo anche precipitazioni durante la mattinata con rovescio temporali sparsi più insistenti lungo la fascia costiera, in particolare quella che va da Ancona fino alla costa pesarese. Poi anche qui avremo fenomeni temporaleschi che si esauriranno nel corso del pomeriggio, in diminuzione delle temperature minime, in lieve aumento invece quelle massime. I venti saranno di brezza tesa settentrionali con rinforzi fino a vento teso lungo la fascia costiera. Il mare sarà molto mosso. Per venerdì 21 agosto, cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi nella zona dell'entroterra, nelle ore più calde della giornata. Temperature in aumento, in particolare nei valori massimi, i venti saranno di brezza tesa nord-occidentali. Il mare mosso con moto ondoso in diminuzione fino a poco mosso. Dunque per il fine settimana e l'inizio della prossima avremo giornate che comunque saranno l'insegna della stabilità e saranno giornate soleggiate. Allora cominciamo a leggere i giornali e partiamo dal resto del Carlino. Una curiosità, il sirenetto di Baia Flaminia. Siamo sulla spiaggia di Pesaro, guardate bene la fotografia e cercate di capire che cos'è che c'è che non va in questa fotografia o comunque qualcosa di diverso rispetto al solito. Insomma c'è questo signore che sta prendendo a Baia Flaminia, quindi neanche in un luogo tanto appartato, il sole è completamente nudo. Un nudo integrale sulla scogliera che finisce poi sui social network. Il sirenetto di Baia Flaminia non giovanissimo ma baldanzoso con abbronzatura totale. È stato fotografato da Ubaldo Nori, un fotografo a pesarese amatoriale specializzato in albe e tramonti e che ha immortalato questo suo David di Michelangelo appunto a Baia Flaminia. Una notizia che riguarda un lutto, è morto il cronista Gigi Del Vecchio, è morto a Catania all'età di 76 anni. Il giornalista Luigi Del Vecchio che lavorò a Pesaro nel periodo dal 1976 al 2004 è impegnato in varie testate di informazione, tra cui giornali, radio e televisioni. Il funerale di Del Vecchio si svolgerà oggi alle 17 a Catania nella chiesa di Masca Lucia. La pagina di fano del resto del Carlino, debiti di un milione di euro. Le cooperative aspettano ancora, parliamo dell'ambito territoriale, 5 stelle al sindaco, irregolarità, silenzio dopo la denuncia in procura. L'assessore replica, gli uffici comunali hanno avuto tutte le direttive per dare priorità ai riscontri contabili. Sull'alberghiero, l'istituto che cade a pezzi, così come detto nei giorni scorsi, parla adesso il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Pesaro, Alessandro Bettini, che dice quanto sta accadendo è molto grave e la responsabilità è di Ricci. Matteo Ricci, che era, prima di diventare sindaco di Pesaro, presidente della provincia. L'opposizione dunque critica, invece di fare manutenzione, quando era presidente faceva solo i festival. Sesso con ragazzini in cambio di droga, indagine shock, indagato un 37enne di Pian del Bruscolo, che reclutava anche i 13 anni per consumare rapporti sessuali. L'uomo è accusato del reato di prostituzione minorile, 16 le vittime identificate, l'inchiesta è molto lunga, è durata 3 anni. Poi sotto invece Maggi e l'attentato di Bangkok. La bomba era sulla nostra strada, dice il Cagliese, che si trova in Thailandia per il mondiale di Thai Box. Manuel ha fallito il podio, ma ha prevalso il sollievo di aver evitato la strage e si è preso ed è finito al quarto posto. Poi il Corriere Adriatico, la pagina di Fano, beni archeologici mostrati a Singhiozzo, grazie ai volontari l'area visitabile tre giorni alla settimana, da giugno a settembre, altrove invece i siti sono accessibili tutto l'anno. La questione sollevata da un'interrogazione dei 5 Stelle che apprezzano il lavoro dell'archeoclub. Senza carri nuovi il carnevale osannato muore. Tutti i maestri della cartapesta contro l'ente gestore. Appello al comune, Pacassoni, diventeremo una sagra paesana che dispensa caramelle. Contestato l'egocentrismo direttivo, ha chiesto un progetto di rilancio in chiave culturale e turistica. Storia e cultura nelle conferenze del suffragio. Iniziato il ciclo di incontri di agosto, stasera Rolando Ramoscelli sulla cucina povera. Ancora dal Corriere Adriatico. Si rompe il laser. Andate a Fossombrone e Pergola. Il macchinario del centro fisioterapico di San Lazzaro non verrà sostituito. Chi ha soldi va negli studi privati. Barnesi si impegna a pagare le fatture. L'assessore ha incontrato le cooperative, verifiche contabili in corso. Già liquidate alcune prestazioni. Gli atti della coordinatrice dell'ambito sociale, già sottoposti a controllo preventivo. Garantiti i servizi. Siena alla serata mediovale di Pergola. I buoi che trainano l'urna dei Santi, infatti, provengono dal palio toscano. Da Senigallia ufo ed effetti speciali. I fuochi ipnotizzano migliaia con il naso all'insù. In riva al mare, maxi isola pedonale per far fronte all'afflusso massiccio. E sempre da Senigallia, multe alle prostitute che ammiccano. Due squillo romene pagano subito il verbale da 50 euro. Cercavano clienti lungo la Statale 16. Applicato il regolamento della Polizia Urbana. Un nuovo duro colpo a chi si vende sul marciapiede. Da Pesaro, sempre il Corriere Adriatico. Piccole manutenzioni col progetto Volentieri e Volontari. Nel quartiere Centromare, a sei cittadini, si uniranno tre richiedenti asilo. Uno spazio plein air alla biblioteca. 20 classi, invece, all'ex centro per l'impiego. La soluzione raggrupperebbe gli studenti, dunque, in un'unica struttura, in un unico plesso. Oggi ci sarà il sopralluogo dell'On. Cecconi, dei Cinque Stelle. Due soli enti camerali nelle Marche. Drudi indica l'obiettivo della riforma delle Camere di Commercio. Per l'internazionalizzazione è un unico organismo regionale. Il Presidente Pesarese sottolinea la trasparenza e la condivisione del processo nazionale. Ancora, dal messaggero questa volta, uno sfratto al giorno e case all'asta. Oltre 200 sgomberi esecutivi nei primi sette mesi dell'anno. Un giovane papà senza lavoro minaccia di dare fuoco alla casa. In aumento i casi di mancato pagamento di affitto o mutuo. Le banche pignorano l'appartamento oppure lo mettono in vendita. Foce del Foglia di nuovo ostruita. L'appello alla Regione. Il Consigliere Biancani a settembre la modifica della normativa sulla Ghiaia. Poi la battaglia ristoratori bagnini. Ristoranti in spiaggia. Commercio dice sì, ma solo fino alle 9 di sera. CGL, lavoro sempre più percario. Altro che ripresa. Ricci, Simona Ricci, stupiscono i toni trionfalistici della provincia. Molte aziende hanno annunciato nuovi licenziamenti. Il boom dei voucher che si comprano in tabaccheria sono il segno della situazione reale. Andiamo sull'altra pagina del messaggero. Da Urbino, Galleria Nazionale, manager austriaco. Il ministro ha scelto i direttori dei 20 principali musei. A Palazzo Ducale arriva lo storico dell'arte. Peter Aufreiter. Sgarbi contesta l'intera operazione. Così Franceschini, il ministro, mortifica il suo esercito e non difende le truppe che ha. Sotto Bangkok, blindati in hotel dopo l'attentato, l'atleta cagliese di box tailandese Manuel Maggi era ad un chilometro dal luogo dell'esplosione. Uso dell'acqua potabile, scontro tra Gambini e il Movimento a 5 Stelle. Grillini, mancata ordinanza sull'utilizzo improprio. Il sindaco dice attendo dati certi dal lato. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero. Ambito sociale, i revisori pronti a commissionarlo. I grillini chiedono chiaramente sulla questione, sulla gestione. L'assessore Barnesi, lavoriamo al caso. Nessun problema per erogare i servizi, scongiurato il pericolo di interruzione. Il capogruppo dei 5 Stelle fanese, Omiccioli, dopo tre mesi non si profila una soluzione per sanare irregolarità e dunque l'assistenza è a rischio. Il comitato invece sull'amianto, dicono, la salute legata ai soldi. Cittadinanza attiva applaude alla bonifica decisa dal Comune, ma gli interventi non dipendono dal patto di stabilità. Poi, installati 100 posacenere in centro e al mare. Siamo a Fano. Qui vedete la presidente di Aset Spa, Lucia Capodagli, che ha appunto annunciato l'installazione di circa 100 posacenere che sono già stati messi in centro storico e nelle zone del mare. Adesso la maggiore cura della città è nelle mani, ovviamente, ed è il caso di dirlo, trattandosi di sigarette dei fanesi. Ed è tutto, grazie per aver seguito la nostra segna stampa. Ci vediamo stasera con Occhio alla Notizia e il telegiornale. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS